Adesso vi presento il nostro primo relatore, che come vedete è il professore Paul Stephan, un verbita e il professore ordinario della Facoltà di Missiologia dell'Urbaniana. Il professore Stephan ha fatto gli studi missiologici presso la Pontificia Università Gregoriana, vuol dire che è formato qua, da 1987 fino a 1992. È stato pastore missionario per tre anni, 1983 fino a 1987. È stato formatore e docente per cinque anni a Sant'Agostin, da 1996 fino a 2000, in Germania. Un anno di insegnamento della Salle di Manilla, nelle Filippine, da 2001 fino a 2002. E da 2002 alla Facoltà di Missiologia dell'Urbaniana. Lui è membro di Network Pastoral Asia, dalla sua apertura nel 1012. Lui è preside della teologia dal pastorale missionaria, offrendo un corso annuale di teologia e prassi della comunità cristiana e un seminario sulle piccole comunità cristiane ed un altro seminario sullo sviluppo della teologia pratica contestuale nelle chiese locali non occidentali. Allora, a lei, professore, la parola. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono molto felice che adesso il mio amico, Brian Lobo, mi ha invitato per questo convegno sul Maximum Illud. Il ruolo del missionario cattolico. Ideali e realtà tra la Maximum Illud e il Concilio Vaticano II. Ma questa tematica, io ho cominciato con una citazione di Hans-Georg Kadema, che è anche importante per noi di comprendere. L'orizzonte del presente si forma non senza il passato. C'è un orizzonte presente tanto piccolo quanto ci sono orizzonti storici da guadagnare. Piuttosto la comprensione è sempre il processo di fusione di tali presunti orizzonti. Allora, in linea con questa citazione, questo articolo o relazione cerca di riconoscere il contributo dei missionari allo sviluppo delle chiese indigene, presentando voci sul loro lavoro dell'esterno e dell'interno. Vedete? Indigene di Nuova Gunia. Allora, perché io dimostro questa immagine più di cento anni fa, così anche alla costa del nord della seconda isola del Globo e Nuova Gunia, con l'Andia la prima, la seconda è Nuova Gunia. Allora, è abbastanza grande. L'attenzione si concentra nella mia relazione. Sui missionari secondo Maximum Illoth, qui vorrei riflettere in particolare sui missionari della Società del Verbo Dovino e le sue missionari dello Spirito Santo in Nuova Gunia, perché voglio questa tematica che alla fine Maximum Illoth parla anche sui missionari. e questo voglio concretizzare da un caso particolare, questo di Nuova Gunia, nella parte nord-orientale dell'isola della Nuova Gunia. L'isola fu dal 1884 al 1914, ai 30 anni, una colonia tedesca chiamata Deutsch-Neuginea. Successivamente l'aria fu dal 1914 fino al 1921 sotto l'administrazione militare australiana e poi fino all'indipendenza nel 1975 sotto mandato di Australia. Per spiegare un po' questo. Il lavoro fatto dai missionari divenne gradualmente in varie fasi di sviluppo la Chiesa Indicina. In tutte le missioni del mondo, nel caso qui più studiato in Papua Nuova Gunia, ed è sempre un lungo cammino che durerà diverse generazioni. Senza dubbio questo processo è strettamente legato ai protagonisti di questo lavoro, ai missionari, le missionarie, e ai destinatari del loro lavoro. In stesso modo, della evangelizzazione dei missionari e delle missionarie, cioè alla popolazione indicina, perché senza la partecipazione attiva dei membri del popolo attrezzato, qualsiasi lavoro missionario o di evangelizzazione non avrebbe avuto successo. Allora abbiamo due partner, da uno i missionari e dall'altro la gente, no? Che i missionari hanno come destinatari del loro lavoro. La relazione vuole mostrare come i missionari, in un contesto storico e culturale particolare, hanno recepito le cinque encicliche missionari dei papi, dal 1919 fino al 59, prima del Vaticano II. Per le prospettive di missione della Chiesa nella prima metà del XX secolo, si possono osservare cinque encicli papali scritti in questo periodo, Maximum Illud, 1919, Reum Novarum, sette anni dopo, di Pio XI, Evangelii Precones, di Pio XII, di 51, e anche un'altra Fidedonum, anche di Pio XII, e finalmente di Giovanni XXIII, Prince Pastorum, in 59, che hanno avuto un'influenza significativa sulle missioni cattoliche e la giovane scienza missiologica cattolica. L'enciclica missionaria di Papa Benedetto XV, pubblicato dopo il disastro del Prima Guerra Mondiale dell'ultimo secolo, era pubblicato in una epoca di grandi cambiamenti e di grandi disorientamenti dei popoli cosiddetti cristiani dell'Occidente, vuol dire di Europa e America, almeno quella parte del Nord America. Qui un citato del nostro specialista, che ha scritto il suo doktorato più di due secoli fa, è presente, Angé Miot, no? Angé Miot ha fatto il suo doktorato sul Maximum Illud, è pubblicato in tedesco. Ma adesso, recentemente, nel Verbum Esprit, ha pubblicato un articolo in inglese, aggiornato, e questo è di ottoma qualità, posso raccomandare questo articolo, anche di mio confratello. La guerra fra i popoli europei ha anche cambiato il mondo non occidentale. I colonizzatori occidentali non hanno ancora riconosciuto i segni dei tempi, ma il loro sistema coloniare ha superato il suo apice. Allora, inizio di questo sistema deve crollare in pochi anni dopo la Prima Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, fra 1939 e 1945, finalmente comincia crollando questi sistemi coloniali, cominciando con India, Indonesia, Ghana, Cina, eccetera. Anche il mondo missionario connesso con questi sistemi coloniali crollavò rapidamente, soprattutto con la dichiarazione della Repubblica Popolare della Cina, in 49, e le nuove stati indipendenti appena menzionate come India. Visto dal punto di vista di oggi, si deve riconoscere l'enciclica di Benedetto, quindicesimo, come una svolta nella storia della diffusione del Vangelo. Il significato storico di Maximum Illoth è strettamente intrecciato con la Grande Guerra che ha esposto le carenze del lavoro missionario cattolico, la mancanza dei preti indigini. L'Europa era divisa in due alleanze concorrenti e potenzialmente ostile, con Germania, Austria, Ungaria, in una, e Francia, Gran Bretagna, Russia, nell'altra parte. Il significato storico dell'enciclica comprende quattro aspetti principali come importanti contributi alla riforma della missione. Prima, centralizzazione del lavoro missionario, tipico anche per la Chiesa Cattolica, le missioni cattoliche. Secondo, depolitizzazione del nazionalismo che colpisce la missione e formazione approfondita di futuri missionari. Questo nazionalismo, patriotismo, soprattutto anche Miod ha descritto in suo articolo dei francesi della Cina, tante lettere, alcune hanno lamentato, ha scritto tante lettere al Papa, alla Burganba Fide, no? Vincent Lebe è la figura più conosciuta per questa critica come funzionava il sistema missionario in tanti paesi, soprattutto in Cina e India, ma anche in Africa. di europeizzazione della missione e formazione del clero autoctono, indigeno, che assume il diritto della Chiesa autoctona nell'autodeterminazione. Quattro, il passaggio, shift teologico missionario e la forma convincente di esposizione. Il Papa si rivolge a tre diversi gruppi in sua enciclica, anche qui, Gerarchico in suo tempo, superiori missionari e ecclesiali, i vicari, apostolchi, i prefetti, eccetera, missionari e l'intera comunità dei fendeli cattolici, alla fine, soprattutto per aiuto economico della missione. La missione Maximum Ilius si rivolge per primo ai vescovi e ai superiori missionari e li esotava ad avere come intento non solo quello di essere buoni pastori del Grece, ma anche quello di promuovere continuamente l'evangelizzazione nel loro territorio. Il concetto missionario di Papa Benedetto XV è ancora fissato, molto forte, anche in questo testo è raccomandato, sulla espansione del territorio, della missione, per salvare il più grande numero possibile dell'anime. I vicari apostolchi e i superiori missionari seguono fedelmente questo metodo raccomandato ai loro da Roma, della propaganda fide soprattutto, nonostante la loro comprensione di missione gradualmente sta cambiandosi gradualmente. Un cambiamento causato con la progressiva conoscenza delle culture, della religiosità, della gente che servivano come destinatori della loro proclamazione dell'Evangelo. Ma il desiderio più profondo di Benedetto XV riguarda la formazione del clero indicino e la sua preparazione ad assumere la guida della missione e quindi l'istituzione di vere chiese particolari e locali. Questo è forse il punto più importante. Inizio, qualcosa che era possibile con i decreti del Vaticano II. secondo, allora, in 1969 finisce il cosiddetto Ios Commissionis, ma i missionari da questa enciclica di 1919 fino al 69 sono state ancora le persone che hanno evangelizzato e che sono menzionate solamente alla fine di questo documento. Che si presiede alla missione e deve rivolgere le sue principali premure alla buona formazione del clero indicino, soltanto il sacerdote indicino, dice, Benedetto può veramente radicare il messaggio cristiano nel suo popolo, nel suo ambiente. Infatti, il sacerdote indicino, Benedetto, cito, avendo comuni con i suoi connazionali l'origine, l'indole, la mentalità e le aspirazioni, è meravigliosamente adatto a installare nei loro cori la fede, perché più di ogni altro sa le vie della persuasione e perciò accade spesso che egli giunga con tutta facilità dove non può arrivare il missionario straniero. Qui il Papa ricorda al missionario che la sua missione è limitata nel tempo e che non dovrebbe mai dimenticare che il sacerdote locale deve completare questo lavoro missionario. Il missionario straniero dovrebbe prepararsi per questo nuovo compito e lasciare poi il lavoro al missionario indigeno. Benedetto XV vuole soprattutto liberare i missionari di ogni tipo di nazionalismo, patriotismo. E poi lui scrive nella parte diretta ai missionari il Papa sviluppa un altro pensiero centrale dell'enciclica che si può definire anticoloniale di non compromettere attività missionaria con interessi politici, nazionali e soprattutto con la politica coloniale. ricordatevi che voi non dovete propagare il regno degli uomini ma quello di Gesù Cristo e non aggiungere i cittadini alla patria terrena ma alla celeste. questi sono punti molto forti. Ogni storia della missione e delle missioni è sempre una storia dei suoi protagonisti degli uomini e delle donne che portavano il messaggio cristiano a un popolo o popolazione non evangelizzato nella rispettiva lingua e nel spazio culturale di un determinato luogo e paese. sappiamo bene che l'insegnamento della fede cristiana è un processo multigenerazionale che a sua volta supera sempre un lungo tempo creativo dove tutti gli annunciatori collaborano con i destinatari attrezzati. Qui vedete anche dell'alto piano in questa area anche era mia parrocchia. Diana Lambo una americana storica ritiene giustamente che quasi tutte le storie missionarie difficilmente tengono conto dell'attore principale o iniziale di questa storia del missionario del suo background culturale e sociale e della sua educazione e formazione missionaria. All the studies quotations and numerous other books and articles have contributed richly on the understanding of mission activity in the Pacific but most of them chose not to make the missionary either as individual or as a social group the primary focus of their analysis. That Diana Lambo published a book Missionary Lives in Papua. Credo che Lambo critica giustamente la mancanza di dibattito scientifico con la persona del missionario la figura. La mia ricerca nella letteratura mi porta alla stessa conclusione. Anche le enciclopedie curate da licenziati della missione non hanno alcuna voce missionaria riportando solo la visione dei documenti della Chiesa dei papi di alcuni teologi della missione sotto la voce esistente missionario. Sullo ruolo del missionario nel secolo XVII-XVIII si è svolto un eccezionale seminario internazionale nel 2017 con il contributo di esperti di tutto il mondo. era un seminario che ha participato e organizato dall'Istituto Storico Germanico Svizzera e Francese insieme con specialisti di tutto il mondo. Modern studies of missionary organizations in the Pacific have in varying degrees examined the personal of the mission or missions under consideration but the interest has generally been subordinate to the dominant theme the establishment and growth of these institutions. The missionaries themselves their objectives and aspirations their ideal convictions and opinions their actions and responses are rarely the central concern of such studies. Charles Kraft asserted that in terms of the culturally structured assumptions values and commitments underlying a people's perception of reality and society's structures such as things as what its people are to believe how they are to picture reality and how and what they are to analyze. people interpret and react on this basis reflexively without thinking. Our worldviews shape our values gives order and meaning to life and death provides us with a model of the world and guides us in the way that we should function within it. It teaches us how the world works. It shapes every aspect of our culture whether religion language family life art education or economics and is in turn shaped by it. Non dobbiamo dimenticare che le società tribali tradizionali sono definite di una visione holistica della società e del mondo in cui gli interessi e i compiti sociali economici politici e culturali compresi gli interessi e le attività religiose e spirituali sono indissolubilmente legati. Nessuna di queste dimensioni sociali può essere percepita da sola o indipendentemente delle altre tre dimensioni. Le società tribale indigne in interazione con i gruppi che le condizionano dall'esterno influenzano in modo significativo il cambiamento sociale non solo i partecipanti passivi ma anche i partecipanti molto attivi al processo di cambiamento sociale in atto. Qui dobbiamo vedere anche questo aspetto anche il missionario com agent agent of change come i commercianti i colonizzatori i governatori eccetera. quindi i membri delle società tribali tradizionali non solo cercavano di comprendere la nuova presenza di missionari provenienti da cultura finora sconosciuta e il loro lavoro tra loro ma anche di incorporarli positivamente nella loro visione del mondo e di ottenere un lato favorevole per questa presenza. in tal modo le società tribali indigene e i loro leader si sono dimostrati partecipanti estremamente pragmatici alla propria trasformazione sociale. Pertanto vorrei attirare l'attenzione sulla sostenibilità o sul impatto costante dei missionari pionieri e indicare attivamente alle nuove chiese locali indigene nella storia della missione della storia della chiesa locale e della società di questo paese. Questo lavoro non è mai possibile senza partecipazione dei destinatari come ho già detto dell'annunzio concreto e fattibile anche se questo viene spesso dimenticato o ignorato in nome di questi destinatari che raramente compaiono nella pubblicazione storica missionario anche dei missionari. Tuttavia dipendeva sempre dalla popolazione indigina se accoglievano i missionari stranieri o rifiutavano il cui studio sosteneva benevolmente o addirittura rifiutava o ostacolava la loro cultura e lingua. Cioè era tanto più vero per l'opera di annunciare la buona novella tra di loro. La prima cosa che il missionario deve conoscere è la lingua del popolo. Quando i nostri primi missionari arrivano non c'era un dicionario o niente allora hanno fatto scritto le prime parole ma con difficoltà hanno tradotto hanno chiesto qualcosa non tutti erano disponibili non tutti volevano aiutare perché lui deve sapere i segreti di nostra cultura non era facile di creare una fiducia il missionario con questa gente e destinatari del loro lavoro missionario ma con perseveranza sono riuscito di fare questo. alla cui conversione intende dedicarsi e non basta che ne abbia una conoscenza qualsiasi ma bisogna che la possieda in modo da poterla parlare correttamente e con speditezza pertanto il missionario che all'imitazione del Signore Gesù ada di carità riconoscendo anche dei più perduti pagani dei figlioli di Dio credenti con lo stesso prezzo del sangue divino non si irrita per la loro occezza non si scomenta dinanzi alla perversità dei loro costumi non si disprezza o distegna non li tratta con asprezza e severità ma cerca di attirarli con tutte le dolcezze della benignità cristiana per condurli un giorno all'approccio di Cristo il buon pastore benedetto quindicesimo questo è un grande ideale no? è facile descrivere questo da Roma è un'altra cosa di vivere questo nei paesi della missione c'è un grande abisso fra questo ideale e realtà la sua spirituale e il suo stile di vita aspettative nei confronti dei missionari nella costituzione della società del verbo divino scastritto i cambiamenti nel mondo nella chiesa nella scienza e nella teologia nonché gli sviluppi nelle singole fasi della vita richiedono a tutti i confratelli e a ciascuna comità un studio costante un apprendimento professionale permanente e maturazione per tutta la vita anche questo è un grande ideale una caratteristica di Arnold Janzen è che il fondatore dei missionari e dei missionari di Steyl era abbastanza soprio di valutare adeguatamente i punti di forza e di debilezza dei suoi missionari sull'osservazione di padre Limburg il primo prefetto apostolico in Nova Guinea un missionario della Cina e gli rispose con molta calma e questo è importante e bello certo loro i missionari non sono tutti prima qualitatis come in nessun caso ma tra loro c'erano molti esperti e affidabili allora anche prezioso allora abbiamo la gente normale anche ausenti christian missionary spirituality must attend to and learn from diverse ways of being and help us live in relationship with different people and a changing world la spiritualità che i missionari vivono sia collettivamente nella comunità missionaria che individualmente ha un impatto significativo sul modo in cui il gruppo o il singolo missionario svolge il proprio compito missionario ogni missionario ha nello stesso tempo sempre avuto una spiritualità personale forse anche già formato da sua famiglia no? non solamente del monasterio convento o seminario è definita per affidarsi al modo in cui esercitava la sua professione missionaria lo stesso vale per la missionaria il padre il padre Anodiansen il falatore della società del verbo divino o del suo del spirito santo indica in una lettera del 1904 a padre Limbro che era allo stesso tempo il profetto apostolico e il superiore religioso dei missionari verbiti in Nova Guinea di non essere troppo da emissionare troppo duro citazione perché siano tutti troppo poveri e quando un superiore dipinge così alti ideali sul muro uno pensa e dice è troppo alto per me non posso raggiungere questo mai quindi deve scegliere aspettative leggermente più basse e solo qua e là può far apparire gli ideali più alti in modo che si rendano conto che non richiede questo massimo ma da essere tenuti in considerazione così di stimolare un maggior selo perché l'attività un altro secondo soprattutto io in generale perché l'attività missionaria abbia una buona riuscita ha bisogno di una solida formazione estetica che deve essere vissuta in carne e ossa e un condizio sino qua non l'uso dei più esercizi deve diventare una seconda natura più futuri missionari il giovane missionario anche dice questo superiore dovrebbe ascoltare vedere imparare ma non criticare e sapere sempre tutto meglio anche tipico questo per tante generazioni no? enfatizza chiaramente la vita spirituale e virtuosa e lo spirito comunitario dei missionari come prerequisito per il successo dell'evangelizzazione in oltremare l'ambiente ha occhi acuti in Europa i confratelli e gli aspiranti e persino i fedeli nelle missioni cristiane e gentili e scopriranno subito se i missionari sono in armonia e cercano di vivere in armonia tra di loro riconoscere la donna come missionaria questa abbiamo già sentito il Papa Brian ha parlato il Papa Benedetto XV la prima volta anche menziona l'importanza delle donne nelle missioni e non Roma che ha creato i fondatori hanno creato società missionarie con il ramo femminile no? ma poi anche Roma voleva anche un po' controllare questo mondo e inclusiva ma il missionario in questa epoca era solamente il sacerdote la sola non è un assistente come dopo abbiamo lay helpers i laici missionari solamente oggi il missionario è inclusivo ma in questa epoca non era così riconoscere il valore delle donne nell'opera di evangelizzazione a questo punto non si possono ignorare le donne le quali fin dai primi promodi del cristianesimo hanno efficacia semplicemente collaborato con i predicatori nelle divisioni del Vangelo pensiamo solamente a Lidia no? domestic churches no? chiese domestiche e sono specialmente degne di una ben meritata lode quelle vergine consacrate di Dio che si trovano in gran numero nelle sacre missioni questo era già citato allora non voglio ripetere questa citazione di Benedetto ma parlo di una donna la prima missiologa la sora Sixta Kasbauer ha ricevuto il permesso di studiare missiologia e ha fatto sua tesi in 1926 con Schmitt a Münster ha scritto sulle donne la partecipazione delle donne all'opera missionaria sul doctorato ma in questa epoca le donne non potevano studiare teologia per questo ufficialmente non hanno ricevuto un doctorato ma Schmitt scrive l'introduzione questa a livello di un doctorato anche perché l'accesso al studi di teologia non era possibile ma almeno lei poteva studiare missiologia come donna la sora missionaria convalida il carattere femminile e la dimensione femminile del cristianismo lei insegna ai popoli pagani a comprendere la regione dell'amore compassionevole e pratica le virtù inerenti del cristianismo della pazienza della dolcezza dell'interiorità e dell'amorevole devozione a Dio questa missiologa Sixta Kaspauer serva dello Spirito Santo laureata nel 1927 come prima donna in missiologia preso il fondatore della scienza missionaria cattolica Josef Schmittlin un prete di Susanne di Strasbourg in Alsacia ho già menzionato la sua tesi per quando riguarda la conoscenza tutti senza eccezione devono presupporre una base certa e non troppo piccola dell'istruzione elementare perché anche l'apprendimento di una o più lingue straniere come richiesto dall'impresa missionaria richiede una certa misura di intelligenza e formazione oltre a ciò ci sarà una formazione professionale speciale per il servizio missionario in una delle aree delle missioni della donna missionaria che le sue missionaria dovrebbero avere citazione di Sixta su Sixta tutta la conoscenza teorica non sostituisce una certa saggezza personale su cui fa affidamento una sola missionaria in molti casi concreti del suo operare questa prudenza sia una virtù dell'intuizione che della ragione pratica e allo stesso tempo un prodotto dell'ammonioso sviluppo della mente della direzione virtuosa della volontà per le sue missionarie lei ha insegnato tanti decenni da una formazione missiologica all'essore della sua concreazione e poi ha pubblicato questo negli anni 50-52 il titolo tedesco Missions Kentnis Missions Lieber e Missions Start vuol dire la conoscenza della missione l'amore per la missione e l'attività per la missione l'ambisiologa misse insieme il materiale didattica delle sue decennali docenze missiologiche per la sora missionaria che sintetizza ancora una volta lo spirito e l'attacciamento missionario la sora missionaria non ha una posizione dominante scrive fin dall'inizio ma una posizione più di servizio anche tipico per sua età il servizio dall'essere umano alla persona fisicamente indifesa o spiritualmente incompiuta è sempre stato considerato come una forma di e lei chiama maternità ma dobbiamo riflettere un po' più su questa parola nozione di maternità possiamo comprendere in modo positivo ma anche nell'attacciamento e nell'esercizio della maternità spirituale la missionaria deve conoscere i limiti e rispettare l'aspirazione di un popolo nel suo valore intrinsico nei suoi diritti umani e poi una storica di Austria di Innsbruck ha fatto la doctorata sulle storie SSPS che vanno in Togo e in Nova Guinea e lei scrive nella sua tesi pubblicato in inglese fatua Firenze in inglese the lack of attention paid to missionary nuns active in Togo and New Guinea mirrors three larger trends in mission historiography addressing both regions first most historians have focused in protestant missionaries a fact that can be explained by better accessibility of protestant missionary archives and they're less complex as compared with the catholic case institutional involvement second it reflects the strikingly persistent perception of colonialism as a masculine undertaking which has shaped the analysis of empires for decades third it relates to the type of archives that historians have consulted and the kind of evidence they have preferred women a ruler represented both in colonial and church archives despite the fact that catholic nuns wrote large amounts of letters and reports to their European congregations headquarters their voices can hardly be traced in colonial or church archives for the simple reason that with neither colonial offices nor the propaganda feed the Roman department of the ecclesiastical administration in charge of the spread of catholicism they would negotiate directly because she has used the archives of the spirit santo and these letters that normally think they don't think they are important she has scoperto the richness of these letters that she has written and it is very recommend to read this book there are not many books that have written of a woman of the secular non ecclesial on the mission I liked this book it is very rich Allora la formazione dei collaboratori indigeni che è anche menzionato fortemente in Maximum Illud allora voglio spiegare come questo si è sviluppato in Nova Guinea questi ideali che anche Maximum Illud non è una novità perché anche i fondatori Cardinal Lavagerie Daniel Comboni Annotianzini e altri hanno già scritto su questo ideale allora non era Benedetto XV che ha iniziato questo dialogo allora questo esisteva già da lungo tempo e qui vediamo come questa raccomandazione soprattutto di Pio XI su sua enciclica del 1926 ha raccomandato di fondare con creazione indigine femminile maschile questa è la novità di questa seconda enciclica padre Limbrock il prefetto apostolico di Nova Guinea aveva ricevuto l'insegnante Franz Wiesenthal per portare a termine il suo piano di fondare una scuola per catechisti poi anche gli altri documenti di Pio XII e di Pio XI hanno insistito molto sull'importanza del catechista nel 1911 padre Wiesenthal comincia la formazione sistematica dei catechisti alla stazione centrale di Alexis Hafen già prima i missionari hanno educato catechisti a livello individuale in modo più semplice e pratico ma adesso più sistematico in una scuola allora come lo sviluppo del clero indigeno il primo prete indigeno era del papo della missione dei missionari del sacro core francesi hanno mandato Madagascar perché non esisteva un seminario la sua formazione era a Madagascar Louis Van Geek era stato ordinato in 1937 il primo prete di questa nazione oggi di papo di Nova Guinea e anche era poi da Paolo VI fatto il primo vescovo indigeno dopo il concilio e un anno dopo anche nella missione verbita il vescovo vicario apostolo Franz Wolf fondava il primo seminario minore ma poi la seconda guerra mondiale allora ha interrotto questo progetto ma alcuni hanno sopravvisuto di questi primi seminaristi i cinque primi preti indigeni sono stati ordinati nel 1953 nella parte di Nova Guinea della missione di Sacro Cuore e poi il primo prete della missione del nord-est dell'isola della missione del Vepito era dell'altopiano del Cimbuveli Ignacio Schillage che era ordinato nel 1968 dopo è andato nella politica ha lasciato il suo sacerdozio per la preparazione della indipendenza che è venuto nel 1975 in Nova Guinea allora il seminario fondato nel 1963 fino al 1994 ha già formato 200 preti locali e poi anche i vescovi dei due vicariati dei Vibiti hanno fondato dopo la guerra una concreazione femminile Sarousa Resisters Sancteris hanno fondato anche il Sacretate Brothers a Madang e anche a Vevec in due vicariati uno anche non ha sopravvissuto l'altro esiste ancora oggi qui le sono missionarie quasi 80 anni fa con tipicamente con le ragazze che hanno ricevuto una formazione a casa per cucinare e tutto questo La SVD Catholic Mission Order ha always encouraged its missionaries to study and learn as much as possible about the native people among whom they are working not only to facilitate the conversion to Catholicism but also for the sake of learning as much as possible about the nature of so-called primitive peoples teacher l'anthropologa Americana Nancy Lutkehaus Lutkehaus chiama tutti missioni maternal come abbiamo sentito di SIGSA Kaspawa maternal colonial institutions recently anthropologists interested in colonial studies and the role of missionaries in the colonial enterprise have increasingly challenged the prevailing sentiment among many Western scholars that missionaries simply reproduce the hechamonic values of the colonizers we are beginning to acknowledge that the mission of missionaries has sometimes put them at cross purposes with colonial officials plantation owners traders and in some instances other missionary organizations or the headquarters in Rome or wherever no? Qui Ancola or Missionaria I use the term maternal to describe the predominant character of the Holy Spirit sisters relationship to and engagement with New Guinean women and children for the sake of analysis and discussion I propose to characterize the initial role of missions in the colonial enterprise in New Guinea as maternal as opposed to the paternal roles of the colonial state and the plantation system the predominant economic base of colonial New Guinea who are missionaries 80 years ago have had the special permission of using the car even this at the beginning was a problem using the bicycle was a problem in Togo the mother in the house was arrabbiated when they were using the bicycle how is it possible alone so all of this at the beginning was difficult in this conference I have tried to try to paragon the recommendations of the papi in the five enciclical missionaries of Maximo Ilu to the Prince Pastor with the life of the missionaries in their context in the papo of New Guinea not all of the recommendations of the papi were a novice for the missionaries although their superior ecclesiastic and religious have implemented many of these enciclical which became a manual for the vicari apostolic superior but especially for the missionaries which until the end of the youth commission have executed the most big part of missionaries in the mission cattolica with this I want to have certainly some questions because from the point of today maximum illud is really from a century ago to the language everything is from the epoch which we have overcome also thanks to the theology and the spiritual and many aspects but not it has had its impact influence on the missionaries at least until Vatican II but also oltre this this expansion was very strong in the mission I vicari e missionari sempre fondavano nuove stazioni come benedetto raccomandava no? Sempre nuove 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 vicariati no? nuove diocesi eccetera fino ad oggi propaganda fide a questa politica anche una provincia di Nova Guinea dove era la missione anglicani non si voleva fare una diocesi ha chiesto i babbidi il provinciale tu puoi diventare vescovo se tu accetto questo ma noi mi ho detto non vogliamo sono 2000 cattolici tutti sono anglicani perché creare in questa provincia una diocesi cattolica grazie a Dio non non è riuscito di fare questo ma in altri casi abbiamo tanti piccoli vicariati diocesi in Nova Guinea anche in Sud Africa come visto a causa della storia missionale ma che sono anche questionabili alcune fondazioni allora avete le domande voi così tanti punti da discutere ho scelto solamente alcuni aspetti il mio articolo è molto più lungo e tra tre pagina ma una parte io presentata qui avrai grazie per l'ascolto grazie grazie padre stefan per questo sviluppo di alcuni punti già radicandosi sul documento di Max Milud ci ha fatto capire o vedere bene questo sviluppo verso il Vaticano 2 specialmente del clero indigeno poi delle donne missionarie e spiritualità eccetera anche alcuni problematici che sorgevano a causa di questo sviluppo lungo lungo gli anni magari quando quando parlavi venivano varie domande anche a me anche voi avrete varie domande su cui possiamo adesso discutere ma da un lato pensavo che il cioè la formazione del clero indigeno da un lato che magari qua sto provocando non solo tutti voi anche a me a me stesso cioè da un lato ha portato una cosa positiva cioè la ricchezza ha portato la tavola diciamo la ricchezza della cultura però da un altro lato quella formazione ha fatto capire al clero indigeno che loro non sono stati intesi bene diciamo dagli europei in questo senso la interpretazione europea della loro cultura magari delle loro religioni religioni parlando nel modo anche tra virgolette erano erano un po' mal capiti per dire e perciò stavi parlando della de-europisazione se ho capito bene no quella parola e allora in questo senso magari ha creato un conflitto nella chiesa un conflitto della diciamo delle prospettive che prima sembravano molto chiare della salvezza della missione perché oggi questi concetti creano problemi a causa dei vari contesti così diversi a causa di una ermeneutica diversa e allora perciò dobbiamo avere diciamo una dichiarazione del magistero per dire guardate queste varie interpretazioni non vanno bene per la missione dobbiamo seguire questa linea e poi alcuni ribellano a causa di queste varie di questa diciamo interpretazione dogmatica eccetera vuol dire che questo sviluppo da un lato ha portato bene cose cioè belle cose alla chiesa alla missione dall'altro lato ha creato un conflitto più o meno anche hai presentato queste problematiche ma avresti qualcosa da dire a questo commento poi apro lo spazio a tutti voi allora hai qualcosa da dire per questo cioè sì in senso che c'è un conflitto che crea cioè da un lato stavi parlando dello sviluppo della missione poi dei concetti eccetera dopo fino a Vaticano 2 ma dico che questo sviluppo era positivo allo stesso tempo era negativo per dire un conflitto può essere positivo allo stesso tempo negativo cioè vedi che era veramente negativo o tutto positivo in questo senso ambedue ecco sì sì sempre nella storia no i vantaggi e i svantaggi e questo anche i limiti i spagli no dei certi concetti no se un concerto anche teologico e solamente monolitico e solamente occidentale non hanno già anche il documento pensato ha scritto anche tutti anche clero indigenza devono avere la stessa formazione come in Europa allo stesso livello in Cina i poveri seminaristi hanno studiato tutto in latino per un cinese no una lingua città poi una lingua morta cinese no come difficile la mentalità non hanno già capito che anche fare teologia è contestuale non c'è una verità no deposito un video che abbiamo qui nell'occidente a Roma e questo possiamo applicare a tutto il mondo questo non è possibile non funziona così no qui la mancanza no di un concetto prefabbricato è applicato no questo no fondazio e ecclesia non solamente da un aspetto senza siamo chiamati seminatori il seme deve crescere nella terra locale o noi abbiamo già la casa prefabbricata la pianta e poi vogliamo impiantare in un'altra terra è possibile per questa pianta un albero di Europa no un paese tropicale allora vedete che il contesto le circostanze sono diverse ma gradualmente i missionari in questo paese hanno la maggioranza capito imparato ma qui per Europa era più difficile capire no dell'ufficio no dal punto di vista dell'administrazione no e allora abbiamo avuto un forte centralismo no in questo senso no allora non ti può veramente tutte le direttive governare la missione da lontano allora la chiesa locale ha il diritto ma questo è l'um gentium questo Vaticano II che non esisteva in questa epoca no per questo per questo i verbiti non potevano all'inizio sviluppare una grande missiologia la teologia della missione ma hanno sviluppato si è concentrato sulla etnologia e linguistica antropologia culturale l'istituto Antropos la rivista Antropos fondata nel 1905 fino a esistere una rivista che voleva pubblicare anche i testi dei missionari e tutti da tanti congregazioni missionarie quelli che hanno fatto etnografia linguistica hanno pubblicato nell'Antropos allora questo abbiamo fatto non potevano in questa epoca pre-conciliare fare una teologia contestuale locale il tempo non era già pronto maturo ma potevamo preparare attraverso l'antropologia culturale e la linguistica questo i missionari hanno fatto grazie allora adesso chiedo a voi per per le vostre domande o commenti vi invito anche prima di presentarvi prima delle vostre domande padre Linus girerà il microfono allora a voi la parola ecco buongiorno grazie per il suo intervento soprattutto per gli elementi circostanti il documento mi è capitato di leggerlo per questo evento in contemporanea stavo facendo altre letture di un testo di runner trasformazione strutturale della chiesa come compito e chance e quindi ho visto come visto da quell'ottica ma anche dall'ottica di oggi potrebbe essere anche un documento abbastanza vecchio per alcuni aspetti però mi interesserebbe invece dato che proprio compie fra due settimane cent'anni sapere se lei ci può dare anche un po' la ricezione del documento come è stata soprattutto sugli aspetti progressisti presenti nel documento per quanto riguarda anche quel nodo dolente della politica quindi che l'opera missionaria non è più un'opera di espansione coloniale ma un'opera di annuncio diciamo gli altri aspetti che per quei tempi erano molto avanti grazie per rispondere questo sarà il padre Angelo perché lui ha pubblicato recentemente un altro che ha fatto qui un doktorato su Maximo Mellut era un membro della società Saint Paul's Mission Society of Nigeria Valentin Iannaccio anche lui pubblicava recentemente alcuni articoli su questa tematica allora lascio padre Angeli rispondere a questo lui è più specialista perché il mio focus era più sulla persona bisnale ho citato un po' di lui ma lui è più conoscente di questo aspetto grazie vorrei ringraziare per questa presentazione padre Paolo ha detto tante cose importanti però vorrei generalmente anche dire che Maximo Mellut come un documento non si deve vederlo come qualche cosa singolo già due secoli prima dal primo praticamente perfetto della congregazione queste cose che erano nel Maximo Mellut erano già conosciute sono ripetute tante volte durante questo periodo ma quello che era proprio nuovo in questo documento accento e vigore con il quale è stato detto la forma di presentarlo era qualcosa molto di nuovo su questa domanda ancora chiederei ancora una volta di ripeterle questa domanda per risponderla molto brevemente volevo sapere la ricezione nel senso che possiamo sapere noi avendo studiato intorno al Vaticano secondo la ricezione dei documenti che continua o non continua questo documento nel momento perché leggendolo non abbiamo gli effetti diciamo la questo è un po' complesso questa domanda perché la ricezione era molto diversa in diversi contesti e praticamente vorrei qui citare un contesto che conosco più cinese erano congregazioni che praticamente non volevano ascoltarlo neanche hanno pubblicato questo documento praticamente una congregazione che l'ho fatto così ufficialmente Merinol però altre congregazioni neanche hanno pubblicato questo documento vuol dire la pratica è ideale qui era veramente un gap una grande differenza per esempio la formazione del clero in Cina noi come verbita abbiamo già cominciato molto prima ma per cominciare la formazione dei nostri verbiti c'era anche certa resistenza fino 1924 abbiamo cominciato noviziato era praticamente sotto certa anche influenza dei gesuiti che avevano già cominciato erano veramente risultati primi ma si vede che c'era una resistenza alcuni hanno già praticato questa idea della enciclica sulla formazione altri non tanto e questo ha preso molto tempo penso che possiamo dire di un processo e questo processo veniva pianamente per esempio in Cina il delegato apostolico Cerso Costantini praticamente era una persona che ha mandato da Roma per far realizzare questa enciclica nella pratica e lui aveva una decisiva influenza sulle congregazioni anche le congregazioni erano state in certo modo chiamate diciamo di dare resoconto di quello che fanno e questo era un momento anche molto importante in questo processo di Wirkungsgeschichte così direi la recezione era molto mitigata all'inizio non era un grande diciamo però erano molti già prima se si guarda la genesi di questo documento erano proprio tanti circoli dei missionari per esempio in Cina in Italia che hanno spinto anche il Papa di fare qualcosa cioè il Papa ha veramente preso tanti voci di vari circoli dei missionari e sotto questa anche influenza ha realizzato ha preso proprio sul serio questi voci e ha realizzato si è reso conto che questo è un momento che si deve agire penso a te grazie 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 padre in tuo articolo ha scritto che negli anni trenta in Cina si moltiplicavano i seminari allora alla fine ha avuto un successo era percepito in tanti aspetti anche nella nostra missione in florestimo abbiamo già fondato un seminario minore negli anni venti in tutte le missioni erano così credo anche almeno la politica della propaganda fida ha seguito fortemente le direttive della propaganda fida ai vicari apostolici i prefetti allora hanno seguito questo allora poco a poco ha avuto successo anche se c'erano alcune resistenze all'inizio i paesi aliati erano contro Benedetto quindicesimo anche questo tu scrivi nell'articolo su voleva fare pace durante la guerra loro non volevano e poi hanno accusato di un carattere minore tutto accusavano Benedetto quindicesimo i francesi inglesi e anche questa politica anticoloniale che non volevano Gran Bretagna e Francia volevano mantenere le loro potenze coloniale per questo queste potenze degli aliati erano molto contro questa politica grazie si è il nostro docente della facoltà di misiologia siccome lui ha citato anche Raner solo per sapendo la teologia di Raner magari sotto l'ottica raneriana questo documento Maximo avrà vari buchi da riempire cioè quello è sicuramente quando Raner parla dei cristiani anonimi o supernatural existential eccetera eccetera allora lì c'è una una visione più diciamo inclusiva più olistica anche quando parliamo della salvezza eccetera ma comunque ci sono vari punti da discutere o di riflettere in tutta la Cina i cari apostoli ci hanno fondato una concreazione locale credo anche in tutte le nostre missioni ognuno ha fondato una concreazione locale indigena e così abbiamo in abbondanza piccolo anche concreazione e che le so che ho in classe della Cina sempre chiedo chi ha fondato il vostro allora spesso sono in concreazione anche io ho visto in Cina che hanno meno di 20 membri allora era un po' esagerato di applicare totalmente che ognuno vicario ha fondato la sua concreazione indigena allora abbiamo fondato troppi che alcuni non sono già morti alcuni non alcuni maschili come ha detto anche dei fratelli già deceduti e altri hanno difficoltà fra vita e morte allora non è così facile che hanno subito applicato troppo alcune direttive di queste encicliche anche questo è ambiguo bene presentarsi prima mi chiamo Sor Grazia Loparco sono un'ex allieva della facoltà di storia della gregoriana e adesso insegno storia della chiesa nella facoltà pontificia auxilium quindi sono una suora salesiana e veramente voglio ringraziare per questa illuminante relazione e mi chiedevo l'attenzione alla figura sono molto riconoscente per l'attenzione alla persona quindi non solo al documento ma ai missionari e alle missionarie quindi si acquisce la curiosità per il ruolo il compito delle missionarie questo riconoscimento ecclesiale della figura delle missionarie lei giustamente ha detto le congregazioni hanno anticipato perché molte congregazioni anche la nostra dopo cinque anni dalla fondazione erano pochissime in Italia sono andate in America Latina perché c'era un concetto molto ampio di missione la mia domanda è questa ci sono già degli studi sulle missionarie direi quasi come mediatrici culturali nei luoghi dove sono state presenti e dove hanno operato per il profilo più basso che avevano rispetto ai missionari sentivo prima il concetto di paternità maternità in qualche modo quindi il profilo più basso meno dirompente della figura dello stesso missionario tante volte i missionari salesiani dicevano che per cominciare la missione era preziosa la presenza delle suore per poter avere accesso nelle famiglie perché il missionario non poteva subito arrivare ci arrivavano prima le suore con donne e bambini e in questo modo almeno in alcuni contesti per esempio penso all'Equador con una nostra figura di Beata Maria Troncatti hanno veramente svolto un ruolo di mediazione a volte tra i coloni e i popoli quindi il discorso anche etnografico di antropologia culturale eccetera ecco mi chiedevo sono figure singole che noi cominciamo a conoscere o esistono già degli studi su questi aspetti grazie sì devo dire che mancano no dobbiamo avere molti di più per questo ho menzionato questo famoso libro di Caterina Stonick pubblicato pochi anni fa in inglese pubblicato e anche questo già più antica di Sixth and Kasper ma anche questo antropologo ha anche citato un'altra antropologa americana Marie Huber Taylor il mio articolo allora spero che adesso è il tempo di fare più ricerche su questo aspetto a me è un punto anche di maximum illus i missionari sono alla fine come destinatari dei direttivi dei superiori non è un grande apprezzamento della figura del missionario anche questo è un po' molto unilaterale questo che fa il lavoro nella vigna durante il sole il giorno il missionario non è abbastanza riconosciuto anche nel documento maximum illus anche questo c'è una debulezza o limite salve io sono Don Kanguia Nautino sono un studente dall'università pontificia urbaniana ho studiato una specializzazione in missiologia adesso sto scrivendo la mia tesi è uno dei miei moderatori il professor Stefan grazie per la sua presentazione lei quando parlava del missionario che deve aiutare la formazione del clero indigena del clero locale io mi ponevo una domanda ci sono realmente adesso e nei vari paesi diciamo tra virgolette di missioni tanti che hanno studiato già diciamo hanno avuto la formazione qui in occidente e adesso certo danno il loro aiuto lì dove sono però da una parte ci sono sempre missionari diciamo occidentali che vanno lì ad aiutare la missione a causa anche dell'università della chiesa solo che tante volte si può notare che quelli che arrivano diciamo nei nostri locali hanno ancora una non lo so sia tendenza o diciamo vedono un po' quelli che sono del posto come un po' bassi loro un po' alti no? secondo quello che ci ha spiegato può darci un'informazione o può fare un commento su questo riguarda non soltanto ai maschi ma anche diciamo alle donne e perché vengono sempre con quella diciamo mentalità di prima diciamo di cento anni fa e cosa dobbiamo fare? Grazie poi rispondo alla fine del mio articolo ha scritto anche sulla stazione missionaria mission station perché ho letto un libro da una missione protestante di Norvegia in Sudafrica e all'inizio loro hanno detto dobbiamo evangelizzare la gente direttamente ma poi hanno creato mission station che cosa è il logo del mission station un territorio dove regna il missionario lo straniero allora gli indicini vengono nelle scuole e i primi che hanno fatto la conversione erano spesso perché non hanno avuto successo non hanno avuto relazione con i indicini non hanno avuto il coraggio di vivere fra i indicini spesso i missionari questo crea una distanza perché anche questa relazione non era così facile di stabilire allo stesso livello no? no? per questo anche mancavano nelle istituzioni il modello istituzionale non ha sempre promosso questo incontro allo stesso livello con gli indicini abbiamo fatto come qui il muro del convento della sezione no? tutto questo modello della sezione che era nella terra della missione un territorio straniero no? come in Vaticano abbiamo questo campus teutonico ex-territoriale nel Vaticano ex-territoriale mission station in mission countries no? questo è un aspetto si deve anche riflettere ok abbiamo le limite le limite io chiedo sempre ai studenti come la professione a tuo padre tuo nonno spesso erano catechisti oggi dove sei cresciuto la tua formazione cristiana nelle small christian communities la comunità cristiana dove è cresciuto e poteva crescere la sua vocazione no? religiosa o sacerdotale e cristiana umana allora la comunità che evangelizza come anche attraente di evangelio gaudium francesco no? del nostro papa questo modello no? un altro modello missionario che è basato sull'amicizia anche no? ma anche c'erano tanti missionari e solo soprattutto che hanno capace di questo modello di vivere il ministero è relazionale no? e è basato su mutual trust no? questa fiducia no? altrimenti non è possibile bene allora siamo arrivati alla fine di questo primo momento della nostra giornata ringrazio padre Stefan per una bella relazione ringrazio anche tutti voi non solo per la vostra presenza ma anche per i vostri commenti per le vostre domande